Amici di Rette7, come sempre eccoci qua un cordiale saluto da Giuseppe De Vitis. Le temperature in lieve rialzo, comunque poche le variazioni, è tempo che torna abbastanza tranquillo, soprattutto su zone pianeggianti, dove avremo, vedete, ampie aperture del cielo. Non mancherà il sole, qualche nuvole in più a risveglio sulla Lombardia e sul Levante Ligure, e poi a seguire sereno, poco nuvoloso, un po' dappertutto, anche se tra il pomeriggio e la prima serata sui rilievi alpini effettivamente a tratti e localmente anche in pienura qualche nuvola potrà transitare, come vedete dalla nostra grafica. Comunque, tutto sommato, un buon sabato, discreto, discreto, pochi disturbi. Guardate le minime, tra i 16 e i 18 gradi, le massime invece si attesteranno attorno ai 25-28 gradi. È tutto cari amici di Rete7, ho concluso, mi raccomando seguiteci, ci riaggiorniamo nel prossimo appuntamento meteo, ma restate con noi su Rete7, arrivederci.